In mostra fino al 7 gennaio 2018, nell'Aula Maglia Becchiana degli Uffizi, i capolavori del rinascimento giapponese, 39 grandi pitture su paravento che si collocano tra l'epoca Muromashi e l'inizio dell'epoca Edo, tra la fine del 400 e l'inizio del 600. Si tratta di paraventi pieghevoli e porte scorrevoli che rappresentano scene di paesaggio e natura, molti dei quali tesori nazionali e proprietà culturali importanti provenienti da musei, templi e dall'Agenzia per gli Affari Culturali del Giappone. Le opere, su carta e perciò delicatissime, saranno esposte in tre rotazioni di 13 alla volta per garantirne la conservazione dall'esposizione alla luce. Qui avremo questi due volti del Giappone attraverso queste opere magnifiche con fondi in inchiostro, con immagini di paesaggio e di natura, di fiori e uccelli, di luoghi celebri che riguardano il ciclo delle stagioni ma anche il ciclo orario di una singola giornata, incorporati in qualche modo, riassunti in un'unica grande superficie pittorica. Una superficie pittorica che era all'epoca non considerata opera d'arte da esporre in vetrina, ma oggetto di uso comune. Quindi questi paraventi e queste porte erano realmente oggetti d'arredo, che andavano a identificare gli spazi e l'uso degli spazi all'interno di castelli, di residenze aristocratiche, di grandi condottieri, di personaggi d'armi e quindi diciamo soprattutto aristocrazia di spada. Perché sono secoli di grande rivolgimento in Giappone, di grandi battaglie per l'unificazione del Giappone. E tutto questo si legge in qualche modo nella pittura. Da una parte abbiamo una pittura molto sobria, fatta di spazi, di atmosfere, di vapori, di nebbie, dipinta con il solo inchiostro nero e pochissimi colori, dove si risente dell'influenza cinese nella pittura di paesaggio. E sarà una tipologia di pittura amata dalla classe aristocratica di spada, quindi dai samurai, insieme alla tradizione del buddismo zen, che in qualche modo sposa l'etica diciamo sobria e austera della classe aristocratica. Dall'altra invece abbiamo paraventi e porte scorrevoli con coperture in foglia d'oro, con spruzzi di foglia d'oro, di dorati o argentati. L'applicazione di metalli dorati e argentati e quindi l'utilizzo anche di tecniche delle arti applicate aggiunte alla pittura. Una pittura colorata dove brillano i verdi, i blu e questi paesaggi imponenti, che devono in qualche modo diciamo mostrare il potere di chi arreda la propria casa con questi grandi dipinti. Le opere in mostra sono espressione di una concezione della natura come specchio dell'animo umano, che si definisce con il termine mononoaware, il sentimento per le cose. L'osservatore ne diventa parte integrante, immergendosi nel paesaggio, con l'attitudine panteistico-shintoista che sta alla base di tutta la cultura letteraria e visiva del Giappone.